Musica Quando vedete ragazzi fasi congitate, momenti belli, di sclero, di paura, terrore Fatele le clip Andiamo a prendere subito B ragazzi Mappa Mi ha detto tosta questa ragazzi Faccio questa ragazzi e per oggi stacco eh Perché non mi da... ok Non mi dà la cattura eh Non mi dà la cattura Devo andare... Oh Ehhhh Spalano No! Siamo fuori per me! No, siamo fuori per me! Siamo fuori per me! Ma fanno già essere molti miei! Sì! Ma davo il cazzo di becco! Ma meno male che io gli ho aiutato ragazzi qui qua! Eccola da me! Affanculo! Oh! Ma non muore ragazzi! Ma vi immaginate ragazzi! Dai oh! Ma veramente! Ragazzi 60 colpi io sto qua! Avete visto? Eh ma fanculo! Ma qua ci sono i cheater ragazzi che sono più grandi del gioco stesso! Cheater di merda! Ragazza schifosa! C'è quello loro ragazzi! Ma veramente! Quando cazzo di colpi io ho sparato? Questa me la to' cercata io però! Questa me la to' cercata io però! Ah dai ma che cazzo! Guarda qui! Guarda qui! Guarda qui! Sto spawnati come funghi! Sì! Hanno il robocop! Sono io gli americani! Non c'hanno il robocop! Eh no! Io sono gli inglesi di... ...i tedeschi! Adesso sono gli americani io! Sono gli americani! Da da caare di... Sentiamo alla cimè... è stato un po' che fumo è un po' faccio dire a finestra moreni loro mie vengono qui a ammazzare a me dammi un fucile, dammi un fucile, porfavor dammi questo no, no, l'altro minchia ho per cambiare le armi qua Uccide di precisione, tedesco. Capire da dove cazzo arrivano è in presa. 100, scusati da un quarto piano. Una volta che mi serve il pugno. No, 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 no! L'uomo colpimiale. Un nuovo film di... Macho Capatotto. C'ho provato, c'ho provato. Guarda, sono tutti super. C'ho provato. C'ho provato. C'ho provato. C'ho provato. C'ho provato. ha un modo è morto questo dai esci da cazzo da finestra vediamo che riesco a farlo saltare ma dai ma niente si è fatto ma perché quando io l'esplosivo non si è fatto niente rambo dei poveri cioè se lo lancio io l'esplosivo non si è fatto niente è piazzato con questa cazzo di mitragliatrice ma no ma che salvami pagliaio pagliaio che salvò la vita a Stephen Gomez mi chiamo vai Stephen Stephen Gomez detto Seagal il suo nome è d'acqua che mi ha ucciso del buon partiero veramente ma poi perché sempre nella fauna eccolo lì ciao bello il carro con gli stivali mondana senza acqua perché prima si deve rompere la finestra altri mesi non si rompe la finestra la kill non te la vanno perché giustamente la finestra blocco a qualsiasi tipo è un veto andrisfondamento ma ti becca quello che a quattro chilometri e mezzo da cazzo compiamente guarda che grognoso di merda con l'angriatrice al primo piano io ci devo raggiungere con l'angriatrice ogni volta che io andrò da qua sotto non arrivo mai a sopravvivere per un motivo e per l'altro croccan erano a cinquantina ragazzi non volevo giammai la vittoria potrebbe essere veramente oh ma sono tedeschi qualsi triple killer meno male che gran parte sono deficienti grazie quello passa e giustamente il nemico è alle spalle chi colpisce me colpisce me perché mi aspettava ovviamente perché mi voleva bene non c'è cazzo di spawnare in questa fauna se quasi ma perché ma perché chi cazzo mi ha sparato ah che ero un piccolo carrammato mi voleva bene cioè dove carrammato all'ingresso oh crocca la vaffanculo almeno uno l'ho appoppato Dio ha appoppato bastardo ogni tanto ragazzi dai una volta ma che n'este il mio vantaggio dai muoversi si questa testa nada nadado completamente ragazzi quando ci sono Ragazzi, il nostro alleato, Dryet, è morto zero volte ragazzi, con 27 kill Beh, l'ho deficiente, io ho più deficiente Io devo provare a raggiungere quel card Ma mamma, come cazzo? Vabbè, ma raga, ma è impossibile, oh, ma quanti cazzo di occhi c'hai? Ma il carro ha una visuale di merda Cioè, ha una visuale di merda che non riesce a guardarti attorno Questo mi vede a gente che scappa da destra e sinistra Ah, come a shot, one kill Sì, basta, ma è roba da te usciare con te Sì, basta, ma è roba da te usciare con te Eh, vaffanculo, vaffanculo Eh, una piccola crepa Oh, ma è roba da te usciare con te E' questo? E' questo? Che cazzo ci fanno? Qualcuno correggia fiamme all'interno della casa ragazzi, della villa Eh ma io con quest'arma non ne bello cazzo E mi faccio vedere all'interno della casa E mi faccio vedere all'interno della casa E' il nostro No, 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 no. No. sono nella trincea l'unico coglione era fuori dalla trincea ma ditemi che cazzo fa qualcuno a cecchinarmi l'unico coglione è vero che è vero il carro dove sta distanto la persona c'è nulla eh li vedo li vedo li vedo ma l'azione cazzo hanno fatto dai come hanno fatto guarda 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 come mi vedete guarda 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 era proprio piazzato sapeva in quale terreno ero posizionato attenzionato c'è veramente ragà ho bisogno di fare sempre nuove gol ma 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 abbiamo quasi vinto dai finiti no vabbè fortunatamente abbiamo vinto ma beh però ma che come cazzo fa ma c'è sapeva esattamente dove ero posizionato sono arrivato sesto con 33 kill vabbè ma il più forte ne ha fatto 38 quindi non è che sia abbiamo giocato vedete c'è questo asasult 58 kill grazie ben ben bella è più Grazie a tutti.